Se il nostro pianeta sta bene, lo siamo pure noi. La casa comune, il bel pianeta blu dove tutti dovremmo sentirci inquilini, una connessione imprescindibile tra salute dell'ambiente e salute umana ribadita oggi in una iniziativa che si è svolta all'ospedale di Pescara. Approfondire lo stretto rapporto tra il benessere dell'uomo e quello dell'ecosistema in cui vive per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Questo l'obiettivo del progetto dal titolo Comunicazione e formazione su tematiche relative all'interconnessione ambiente e salute che per la prima volta vede collaborare in stretta sinergia il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, ARTA, al fine di migliorare la salute umana attraverso la protezione e la conservazione dell'ecosistema. Il direttore generale dell'ASLA di Pescara, Vero Michitelli. Non c'è dubbio, oggi ricomponiamo una separazione che c'è stata 30 anni fa, quando con un referendum si stabilì la separazione delle competenze ambientali da quelle sanitarie, ma i due mondi sono complementari, devono convivere, non sono separati, perché la precondizione per godere della salute è quella di vivere in un ambiente salubre. L'ARTA ha questo mandato istituzionale, oggi ricomponiamo questa separazione, ci integriamo. Cita poi Pasolini nel suo viaggio lungo l'Adriatico. Come affermò Pasolini nel suo viaggio in Italia, Pescara si identifica completamente nella sua dimensione balneare. E il mare per Pescara è la risorsa più importante, quindi tutelarne la sua integrità è per questa città sicuramente una cosa molto importante. Il direttore dell'ARTA Abruzzo, Maurizio Dionisio. Due mondi apparentemente distinti, quello della tutela ambientale e quello della salute umana, ma questa distinzione e questa differenziazione abbiamo inteso accorciarla attraverso un accordo tra il Dipartimento di Sanità e l'ARTA Abruzzo. Un corso di formazione affinché le problematiche ambientali che hanno una ricaduta sulla salute umana siano unitariamente intese. A margine, cambiando argomento, interviene sulla Biblioteca Montefredine, una delegazione del Comune di Pescara oggi in ARTA per verificare la conservazione dei volumi dopo le polemiche. Taluni, forse non avevano granché da fare, hanno inteso sollevare un grande polverone. Nessun problema, i libri sono stivati in maniera assolutamente corretta e li terremo con noi per tanti tanti altri anni.